Mamma, mamma! Vorrei un youtuber che sia divertente ed educativo, che faccia live tutte le sere e che abbia un ottimo rapporto con i suoi iscritti. Ehi, ciao! Ragazzi, come stai? Stai bene? Io sono qua, 50 cent delle guenti sono qua. Adesso, qua io dai di bacio a tutti ragazzi. Sono io, 50 cent delle guenti. Hai capito ragazzi? Senti bene? Ciao, ci vediamo! Ciao, ci vediamo! Ciao, ci vediamo! Ciao, ci vediamo!